Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare questo video vi invito a passare dal sito 6calcio vi ho avuto da acquistare maglie e tutta calcistica a prezzi convenienti inoltre il serendio codice coupon Fabio riceve il 15% di sconto troverete il link in descrizione queste sono le mie maglie non perdete altro tempo e passate dal sito eccoci qua con Fabio Di Mauro tre anni dopo circa l'ultima intervista come mai Fabio affari così poco sul web? non mi piace stare troppo sul web perché preferisco rimanere concentrato sul calcio e non amo stare al centro dell'attenzione infatti il canale gestito da mio fratello ha timo che riprende edita i video io rimango dietro le quinte come sono stati questi primi mesi a Ponte Vera? anche se il nostro campionato è stato sospeso a causa del covid questi primi mesi a Ponte Vera mi hanno comunque permesso di migliorarmi grazie alle amichevoli e agli allenamenti qual è la differenza più grande che ho notato passando da una società di lettantistica ad una professionistica? le maggiori differenze che ho notato passando da una squadra di lettantistica ad una professionistica sono la competitività tra i compagni e le strutture ti ispiri a qualche giocatore quando giochi Fabio? ma quando gioco non penso a disperare nessuno penso solo a quello che sto facendo in campo e provo a fare la cosa migliore i giocatori che ammiro per il loro stile di gioco sono Onesi, Dybala e Gomez però quando gioco non ho ricerto il loro stile è vero che a 16 anni in seguito all'ultima stagione all'Etrusca avevi pensato di smettere di giocare a calcio? sì, durante l'ultima stagione all'Etrusca ho pensato a smettere di giocare perché non mi divertivo più come quando ero bambino e vedevo i miei obiettivi allontanarsi sempre di più e avevo perso gli stimoli e a Finale Emilia invece è stata la piazza che è riuscita a farti di trovare quegli stimoli per me? sì, a Finale Emilia ho ritrovato la voglia di giocare che mi mancava da tempo anche grazie al mister Gavioli che mi ha messo al centro del gioco e mi ha permesso di avere fantasia, divertirmi e fare quello che mi riusciva meglio e dopo l'anno al Finale Emilia il tuo percorso all'Alfonsina com'è stato? nonostante l'anno difficile dall'Alfonsina mi porto un'esperienza positiva in un campionato importante come quello nazionale nel quale comunque penso di essere migliorato e facendo un ruolo che non ho mai fatto prima sei passato dal ruolo di prima punta all'Alfonsina al ruolo di mezzala nel Ponte d'Era ma qual è il ruolo che ti piace fare di più? al Ponte d'Era sto facendo diversi ruoli ma quello che mi trovo meglio è il trequartista perché ho la possibilità di svariare e fare diverse posizioni nel campo però sicuramente tra prima punta e mezzala mi sento più in mezzala cosa pensi che farai al termine di questa stagione? attualmente penso solo a dare il massimo con il Ponte d'Era e non a quello che succederà prima stagione, poi si vedrà cosa ti senti di dire a tutti quei ragazzi che ti chiedono un consiglio prima di un provino di sostenere una partita importante? l'unico consiglio che mi sento di dare è quello di dare il massimo per avvenire fuori se stessi ma senza strafare che scarpi utilizzi in campo? i campi sintetici ho le Nike Mercurial Vapor mentre i campi in Nerda Naturale ho le Mercurial Superfly hai già i riti scalamantici prima di giocare? non ascolti musica particolare? no prima di giocare non né riti scalamantici né ascolti musica sono solamente concentrato sui punti buoni propositi per il 2021 e cosa ti aspetti? nel 2021 spero che si potrà ricominciare a giocare tranquillamente e che la faccenda Covid si risolva quanto prima possibile ora quando è che ti potremo rivedere in campionato con il Ponte d'Era? sono ben felisti, il campanato dovrebbe ricominciare il 16 gennaio e vorrei con la speranza di pensarlo al meglio ottenendo 3 punti vi ringrazio per aver visto questo video vi auguro buon anno e ci vediamo sul campo ciao a tutti